oh muto a nico faccio un video con la sua domanda chi colore? ah prego il mio cazzo perché non è? ma non è? oh pizze zombo straffalo quel cazzo lungo perché? che sta a schiacciare? schi stai a schiacciare stai a schiacciare te ne hai parlato non ti faccia non ti faccia stai a schiacciare Grazie